Prosegue il trend positivo per i controlli su rifiuti porta a porta. Su 126 controlli effettuati sono state riscontrate soltanto 43 regolarità, mentre 83 i rifiuti conformi. La costanza dell'azione svolta dall'amministrazione della Dasti e la collaborazione dei cittadini virtuosi stanno influendo sull'andamento positivo in città per quanto riguarda la raccolta differenziata. Dopo quasi due mesi dall'avvio dell'azione di controllo, che comunque proseguirà, per la terza settimana consecutiva il bilancio è ancora incoraggiante. Il dato registrato dalla Polizia Municipale con il supporto degli operatori Dasti, così come si precisa nel comunicato della stessa Dasti, per la settimana 9-14 maggio è stato effettuato nelle vie Valenti, Borremans, P3, Terranova, Sillitti, Piazza Pirandello e Piazzale Largo Benefratelli ed ancora nelle vie Ferdinando I, Romita, De Cosmi, Cusumano e Via Fasci Siciliani. Controlli effettuati anche nelle contrade Niscima e Pescazzo.